Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ancora una volta su Trine 2, quarto episodio, vi ricordo che il terzo è disponibile sul canale di Jodred, se ve lo siete verso andatevelo a cercare, e nulla, abbiamo finito la parte della palude se non ricordo male, dove siamo morti tante e tante volte, ora siamo arrivati all'albero pietrificato, in mia compagnia c'è sempre Jodred con l'uomo panzuto, perché a lui piace così, e andiamo avanti. Ricordatevi che il panzuto è meglio. Ma sicuramente, io sono la prova vivente che la panza è meglio. Cos'è un... qui c'è un coso, un calderone. Ti ho visto molto per un attimo. Ah ok, ci sono le bolle, vieni, vieni, ce la facciamo in due? Ma non fa più le bolle, ha smesso di fare bolle. Il mago ha questa caratteristica meravigliosa, puoi baggare il gioco essenzialmente, perché puoi fare quello che vuoi. Quello specchio ha uno strano aspetto. Va bene, ho presa una, va bene. Tu dove sei in tutto ciò? Sono avanti. Sto arrivando. Il grasso viene da te. Perché è quel coso? Quello specchio, se tu non c'è uno strano lo specchio, finisci di sotto, guarda. Usa l'altra leva, vediamo. Dobbiamo provare a vedere che succede. No, perché devi colpire qualcosa, secondo me. O forse si inclina lo specchio, può essere? No. Ok. Ma quest'altra cosa serve via, quindi. Ma sono un genio. Ma sono un genio. No, ma tutto quanto così sto a livello qua, secondo me. Oddio. What? No, io odio si è enigbi. Si è enigbi. Guarda, non cose... Aspetta, ho capito, ho capito. Si, ho capito anch'io, però... È portal, è portal. Devi abbassarla, esatto. Si, è diventato portal. Ok. Mannaggia. Vengo anch'io! Vedi le mazzate? Zaa! Io sto riscoprendo i piaceri dell'arciere. Le grande volevo fare l'arciere. Io mi sto divertendo con il right pick. Ci mette troppe frecce per ammazzarne uno, però... Invece gli arcieri le ammazza in un colpo. Sto distruggendo casse, intanto. Si morì a Zelda. Eh, sì, ci sono tre punti abilità. Prendo la quarta cassa. Dai! Allora, se vuoi, posso prendere... Ma se tu premi tab, vedi le mie stesse abilità prese, per caso? Non ne vedi di nuove? C'ho solamente due sul mago, sulle casse. Io tengo sei punti da mettere. Oh, allora vai, vai. Allora, vediamo. Facciamo scudo, gelo. Non so cosa sia, lo facciamo. Lo scudo del cavalier diventa così freddo da rientrare e congelare. Ok, ci piace. Lo facciamo. Acquista potenzialmente. Poi, spada di fuoco, pure ci piace. Scudo magnetico. Arrivo. Ok, ci sono. Oh, spada di fuoco. Eh, volevi prendere. Quindi, al quarto episodio, Marco Jotard si è accorto che aveva 16 punti da mettere nella villa. Capita. Ops. Non credo che Ops sia la parola giusta, però l'accettiamo comunque. Eh, ma... Ma ora? Tu come sei arrivato là sopra? Camminando. No, lasciala lì, lasciala lì. Mi hai bruciato. Qui sono qualche suicidato, in realtà. Si è bruciato da sto... Se mi bruci ti ammazzo o no? Perché troppo in qua? Per favore. Ho capito cosa l'abbiamo fatto con me. Ma sono un genio, bisognava far bollire l'acqua. Ma l'avevi già fatto? Così fa bollire le bolle? Ti stai guardando da casa, non lo vede, non esce il fuoco. Non esce, non esce perché si è spostato quell'altro, devi spostare entrando. L'ho già fatto. Tranquillo. Ho la soluzione a tutti i nostri problemi. Casse. Comunque sei solo. Ci sei, allora, guarda. Ma tu dove sei, tutto ciò? Sono un cadavere. Ah, sì. Ottimo! C'è la leva, comunque. C'è la leva, comunque, che puoi usare. Ora, 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 ora. Sto per morire. Corri via, corri via. E la prima volta che moriamo su train 2 può essere? Ok, ora viene la parte problematica. Allora, questo qua, se lo colpisci, si tira. Veloce, usa la leva! Kronk! Usa la leva! E poi... Ma io non voglio capire queste parti da solo come andrebbero fatte. Non ne ho idea. Sì, ma adesso... Ah, ok, si è aperta una porta. Corri! Comunque sono abbastanza sicuro che non andasse fatta così. Evocavo una cassa su un nemico per imprigionarlo. Proviamolo. Cos? Ho preso una bila nuova. Però puoi imprigionare il nemico. Ok. Io poi c'è un coso che dovrebbe congelare, in teoria. Ah! Quindi la scuola... Quindi... Ma no! Pensavo si andasse sotto! No! Oddio! Eh, io qua ci muoio un po'. Ma... No! Andiamo avanti. Eh, e poi? Sì, andiamo avanti. Ma che cosa? Il mago è la risposta a tutti i vostri problemi. No, ma... Ma che fanno? Cioè... Ah, sono automatici questi. Quattro c'è uno solo. Eh, ma... Il mago mi è morto. E sta creando... È tutto quanto automatico? No, e dai, ragno schifosso. No! Oh! Visto? Problema risolto. Io no! Aspetta! Ok, ok. Sono fortissimo! No! 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 Il ragazzo fortissimo è morto. Anche i migliori se ne vanno. Tu ridi, ma non hai idea di quello che c'è dopo. Vai così! E sono due! Allora, devi saltare appena si abbassano. No! Dai! Vai! Beh, oddio. Oddio. Eh, ma poi tu? Vabbè. Addio. Io troverò il modo, non tenere. Dai! Sto al checkpoint. Fai avanti. Fai avanti indietro. Fai avanti e indietro. Torna indietro. Ok. Ok. Stiamo, stiamo pagando il gioco per vincere. Esatto. Ok. Dove lo devo portare sto coso? Che cosa è successo? Ha fatto uscire la bolla più in alto, mi sa. Aspetta, faccio così. Ah, e allora abbassano un altro buco, eh, lo vediamo. Abbassano un altro buco. Dobbiamo andare sopra la bolla, vai. È più di così, non posso abbassarlo. Ok, forse da qua. Ok. Sono anche finito nel fuoco, però l'ho... Ok. Adesso spostiamo il cazzarello. Ma perché hai spostato l'affare che fa le bolle? Perché dall'anno non riusciamo ad arrivare nel punto giusto. Ma sono il mago più potente del mondo. Ma non vale! Cioè, in teoria, gli oggetti che hai sotto di te non mi puoi muovere, però così sì. Ma non vale! Jasmine, ti fidini di me. Madonna! Sì, ma... Vai! Salta presto! È la cubo mobile questa? È il tappeto volante di Aladin. Qual è il cubo mobile? So come fare, tranquillo. Cubo, non te diavole. No, eh. In realtà... Perché devi fare tutto sto cas... Bastava fare così. E poi saltare lì. Ah, aspetta... Ok. Ah! Ok. Ah, ok. Mi hai aperto una porta. Ok, scendiamo allora. Questo gameplay è ricco di emozioni oggi. Ciao, Marco. Sì, ma... Eh, si è buggato il coso, non mi è andato... Oh, mi si è buggato davvero? No, ok. Tranquillo. Trappoccio un filmato e arrivi qua. Che cos'è questa cosa? Qualcosa mi dice che è il boss. Comunque molto carino. Cioè, carino nel senso di... Va bene, un drago, eh. Questo gameplay termina qui. Questa è la quarta parte, se non ricordo male. La quinta uscirà poi sul canale di Jodred quando la registreremo. Quindi, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Spero che questo video in particolare vi sia piaciuto. Perché noi ci siamo divertiti tantissimo. La prossima parte, la quinta, uscirà sul canale del buon Jodred. Vi lascio il link in descrizione. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Alla prossima.